Sono molto contenta del percorso che avete fatto, perché poi sono onorata di seguirvi, ma poi insomma la maggior parte del lavoro lo fate voi. È stato molto bello lavorare con voi. Però adesso arriviamo alla parte più complicata. Questa maglia vi sta anche un po' a larghetta, quindi bisogna riempirla di un sacco di cose. Per me arrivare al serale non è un punto di arrivo, è un punto di partenza per un lavoro che sono un po', se la vediamo la sportiva, gli ultimi 10 chilometri di una maratona lunghissima. Però sono quelli in cui bisogna tirar fuori tutto quello che si ha. Tutto quello che si ha e ancora di più. Quindi vi chiedo da questo momento in poi di lavorare ancora più focalizzati su quello che comunque state facendo, premesso che poi ci saranno molti numeri in cui io voglio vedervi lavorare insieme. Grazie. 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 Grazie a tutti